Quello che dico... Date la cassa depositi, ma l'ANAS proprio no, per favore. Ma quello che dico, caro Calenda, siamo in chiusura, Fassina. Se è stato al governo tre anni, ora viene a fare lezioni sugli investimenti pubblici che non partono, su quella regola che non funziona... Ma amore mio, ma quando c'ero io in presa 4.0, valla a chiedere agli imprenditori, ma pensa a te, che eri, come dice il Ministro per l'Economia, avevi la concessione dei Benetton nel cassetto segretata e adesso fai il fenomeno. Ma sai quanto guadagnava il Benetton quando tu eri all'Economia? Faceva il 20% di utile letto sul fatturato. Vatti a fare un giro, va. Fai rivoluzionario, scusate, se è uscito dal governo. Vai a vedere i punti dell'ANAS, poi ne discutiamo. Calenda, basta, grazie. Dobbiamo chiudere perché i tempi sono quello che sono. Questione dibattutissima e molto spinosa. Vediamo e ne parleremo sicuramente anche nei prossimi giorni.